ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video baravlog come state spero bene allora innanzitutto volevo dirvi che grazie di tutti perché mi sono grazie di tutto perché mi sostenete in tutto e per tutto e comunque grazie ancora di cuore perché siete così così fantastici con me grazie davvero tanto aspettate un attimo che voglio vedere se riesco a andare a mettere la luce perché vedo poco luce qui sì infatti e niente sta registrando sì ok allora innanzitutto volevo ringraziarvi di cuore perché mi sostenete lo so l'ho già detto un sacco di volte ma anche perché mi aiutate a non dico con la visualizzazione più che altro con la mia allegria che andate voi ogni volta e niente quindi che dire non so se mi sei rotto il cavalletto o meno ma è una cosa allucinante di come è il mio cavalletto questo cavalletto qua ahimè non so cosa c'è ma non sta in piedi non l'ho rotto giuro non sta in piedi e basta non capisco perché e vedete com'è tutto smolleggiante vabbè poi lo sistemo a video fatto lo sistemerò però prima voglio vedere se riesco a tenerlo in piedi perché non voglio fare un video che non si vede nulla cioè si vede perché lo sto tenendo con lo sto tenendo in mano però non è la stessa cosa di metterlo sopra un sopra un sopra cioè in mano oppure con il bastone di selfie no preferisco avere un vero bastone ci si ciao un vero cavalletto da te da 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 tavolo ce l'ho però non è il massimo e questo è il cavalletto eccomi qui allora dunque non so cosa sto registrando quindi speriamo che sia tutto bene aspettato sono dovuto guardare perché non vedo cosa sto registrando quindi devo capire bene cosa registro allora cioè se si è arrivato alla registrazione se si è avviata la registrazione o meno allora dunque ho messo la perché questa luce qua di su è buia ho messo la ring light speriamo che si veda bene e si senta bene ma allora microfono è ok però la luce non mi sembra il massimo perché io provo a metterla al massimo ma vabbè no comment quindi speriamo che sia bene questa luce vada bene perché ho provato a metterla in tutte le maniere ma non voglio fare un patatrack con questa luce quindi vabbè comunque sta il discorso che sono riuscita a sistemare il cavalletto non so come speriamo che non è casca insieme al telefono perché non c'è voglia di registrarlo di nuovo da capo cioè di smontare fare coso quindi no però nel frattempo mi sono dato una sbrigata a mettere a posto le mie cose allora la mia cosa sarebbe la testatura per vedermi voi per registrare questo video blog che cliccio allora cosa dirvi di bello nell'altro video che è cancellato perché purtroppo ahimè era troppo in modalità troppo altissima altissima si deve vedere altrimenti non vedrete niente però con questo telefono qua ho la netta sensazione che si veda la perfezione è fatta anche la rima cosa devo dirvi oggi che è una bellissima giornata non so come dire mille volte sto già riprovando a fare l'ennesima registrazione della stessa dello stesso argomento che ho fatto poco fa quando vi era forum di barbara palombelli però il video l'ho cancellato perché c'è si sentiva bene ma si vedeva male e lì non mi è stato bene quindi ho detto no provo a riregistrarlo e va bene così e niente se guardo là ma vedo che la mia anta dell'armadio è messa storta non capisco perché è così storta e sia un po stortina va bene non importa comunque scusate poco carino che guardo su però volevo vedere come ero questo va bene non c'entra niente e comunque niente oggi mi sono organizzata mi ha fatto organizzare la giornata mi ha fatto mi ho creato organizzata una giornata e anche questioni in questi giorni nelle prossime della prossima settimana in tutto il periodo tutto l'anno cercherò di organizzare queste giornate cioè di per quello che c'è da fare perché finora non è il massimo come stavo facendo io quindi la mia educatrice ha fatto di tutto per aiutarmi a elaborare e organizzare le mie giornate sperando che riesca a farle queste giornate che riesco a riprodurle come piacciono a lei ma soprattutto come sta bene a me allora la mattina mi devo alzare alle 8 e mezzo prima cosa tutte le mattine alle 8 e mezzo voi direte non è un po tardi a me va benissimo tutti si alzano per lo meno alcuni si alzano alle 8 e mezzo alcuni alle 4 per andare a lavoro io che sono per non alzarmi alle alle 8 e quindi nulla devo prendere le gocce devo prendere altre medicine poi devo prendere il caffè calazione colazione e cos'altro e mi ascolterò un po di musica un po di vostri video anzi i vostri video in un altro momento perché la musica non c'è una cosa che tenga io la musica la voglio a tutti i costi la mattina altrimenti non c'è al buro ragazze non c'è al buro per niente non riesco a svegliarmi per niente quindi ho diritto e voglia di ascoltarmi la musica almeno quando sto facendo colazione poi se ci avanza del tempo mentre sto facendo ancora più colazione tra biscotti caffè latte e caffè allora si metto altri video altrimenti nisba ma senza altro troverò altri altro tempo per voi però ogni cosa come so dire ogni cosa a suo tempo e niente cosa devo dire nulla ragazzi era tutto lì quello che volevo dire sì lo so mi avete visto le unghie bruttissima ma appena posto me li faccio le ho anche tagliate ah questa era lì la mia madre vedete già nulla questa era lì la mia madre mi piace tanto si sentirà che ho il microfono spero di sì fatemi sapere qua sotto i commenti soprattutto se vi va appunto supportatemi con un like supportatemi e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale youtube e perché no che dire seguitemi anche su instagram vabbè a me non fanno impazzire queste cose che bisogna seguirci di qua e di là o di qua o di là quindi lo dico ogni tanto come lo sto dicendo adesso vabbè che lo dico sempre però faccio l'eccezione solo perché non solo perché lo dico con gli altri perché mi fa piacere anche messa di seguita su instagram tic toc e facebook o anche twitter chi vuole mi seguo anche su twitter metto tutti i link nell'infobox ok di tutti i miei social network ok non solo così pepolare su twitter però proverò a mettermi su a mettere il link nell'infobox del mio profilo twitter instagram e facebook anche tic toc ok scusate la voce strana che ho questa e questa mi tengo perché finché non riesco della freddore sono dolori quindi vabbè niente bene ragazze questo è tutto un bacio e alla prossima aspettate un'altra voglio controllare sta ancora registrando si sta ancora registrando quindi io vi saluto ciao e a presto un bacio ciao